ricetta di oggi torta alle cipolle salsa all'aceto e panna acida iniziamo pelando le cipolle fogliamo la cipolla cercando di ricavarne dei petali in questo modo sbollentiamo i petali di cipolla un minuto da quando bolle e poi raffreddiamo subito in acqua e ghiaccio quando freddi li mettiamo asciugare su carta assorbente non buttiamo gli scarti nelle cipolle ma prepariamo una salsa a base di aceto balsamico burro cipolle bagniamo con dell'aceto balsamico a coprire prepariamo la panna acida panna yogurt limone pizzico di sale mescoliamo il tutto e mettiamo a riposare in frigorifero componiamo la torta di cipolle burro zucchero e cipolle prendiamo la sfoglia la ritagliamo e la adagiamo sopra la cipolla mettiamo la torta sul fuoco e la lasciamo caramellare per una decina di minuti inforniamo a 190 gradi per 10 minuti nel frattempo che la torta cuoce filtriamo la salsa di aceto balsamico la torta è pronta la panna acida è pronta glassiamo infine la nostra torta di cipolle